È stato un periodo molto intenso e molto challenging, come dire un inglese, dal punto di vista professionale, in quanto l'Afghanistan sta attraversando un periodo molto complesso nella fase della sua storia e avendo l'Italia ha giocato un ruolo molto importante, è chiaro che ci sono anche molte responsabilità che fanno capo a me e ai miei collaboratori e tutta l'ambasciata. Beh, si tratta di una sede assolutamente unica, credo che siano poche le sedi della nostra rete diplomatica che stavano in questa situazione, forse l'Iraq o altre, questo è un paese in cui l'Italia è stata presente fino a 4.000 soldati impiegati sul terreno, abbiamo avuto anche dei morti, quindi è stata una situazione piuttosto complicata ma soprattutto le condizioni di vita che sono assolutamente straordinarie perché viviamo tutti sotto un regime di sicurezza strettissimo che limita molto i nostri movimenti. Ci sono alcune cose abbastanza divertenti perché non sono finite in modo tragico, sono i classici viaggi di italiani che entrano in bicicletta o fanno trekking dai paesi confinanti non rendendosi conto, oppure rendendosi conto ma appunto non badando al pericolo e quindi bisognava ritrovarli in mezzo alle campagne e convincereli a lasciare il paese quindi non è successo niente. Sono stati poi altri episodi tragici in cui anche degli amici hanno perso la vita come lo scorso mese di maggio la funzionaria Barbara Deanna ha perso la vita dopo un mese di agonia per le ferite in corso a un attentato a Kabul, è un momento in cui si tocca veramente con mano perché non è soltanto un italiano ma anche un amico con cui la sera prima si era stata insieme e aveva perso la vita. L'Afghanistan inoltre è un'azione che sta venendo fuori dopo 30 anni di guerra quindi è come lavorare su dell'argilla per plasmare qualcosa di nuovo quindi penso che sia anche molto importante dal punto di vista creativo. Grazie a tutti.